Grazie a tutti e chiude quello che sono stati chiamati carini che è stato questo gruppo perché io partirò per tornare ancora meglio quindi è un addio per adesso ma chissà Grazie per essere qui tutti quelli che ci sono quelli che sono depennuti, quelli che non sono ancora una volta questo è l'ultimo concerto fino al prossimo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti